Sono Guido Borghi, il mio progetto si chiama Laboratori volontari per la sicurezza informatica. L'idea è quella di costituire attraverso dei volontari dei laboratori rivolti ai ragazzi delle scuole, ma non solo, si potrebbe pensare a tutta la cittadinanza, con l'obiettivo di sensibilizzare la gente rispetto al tema della sicurezza informatica, un tema al giorno d'oggi molto sottovalutato, ma davvero importante. Si potrebbe affiancare a questo tipo di attività anche la creazione di un vero e proprio laboratorio, col quale monitorare magari le applicazioni web-based delle aziende del Modenese, per valutare lo stato di sicurezza e magari informare in maniera pubblica, attraverso documenti online, le aziende stesse e la popolazione per rendere le consce del problema della sicurezza informatica.